Maria Beatrice Mazzoni Noblesse oblige Tutti gli uomini nascono liberi e uguali, in dignità e diritti. Chiacchiere, discorsi insensati di rozzi blateranti, se lo dico io, insomma non faccio per lusingarmi, ma il nome che porto ha sempre destato interesse al circolo del martedì a Villa Torvi, luogo a meno frequentato dalla crème de la crème de la société locale, e non di meno ossequio nel villico. Quale barbiere non vorrebbe lasare il mento a Gustavo Alonso Aleandro Scamorsi Mandraghi, conte di Pieve di Sacco, nonché Marchese Corradini di Pescassero lì Adriatica, da parte di mamma. Dunque io, Gustavo Alonso, eccetera eccetera, dico che è tutta una menzogna, uno specchietto per le allodole. Questo filosofo da quattro soldi, di cui tanto si parla, ha inventato di sana pianta una rivoluzione che, secondo lui, dovrebbe portare al potere gente sgraziata, senza stile, neanche capace di abbinare i gemelli col gilet. I risultati, disordini, oltraggi persino al re, colpevole, figuriamoci, d'aver dato l'ordine di disperdere i ribelli con le armi. Forse che le idee, ma no, una sola idea, nelle menti svegliate, non è pericolosa? Non è alla stessa stregua di un'arma? Più nociva perché mira ad annientare i valori morali, quelli sacrosanti, che ci stanno da che mondo è mondo? Ecco perché i miei avi, e gli avi dai miei avi, da sempre, forse dall'epoca degli antichi clan praistorici e matriarcali, vedi marchesato materno, adottarono una linea dura verso gli inferiori. Questa cosiddetta classe operaia, atteggiamento consono al ruolo che il privilegio impone. Toleranza quanto basta perché restino al loro posto. Senza ventilare ipotesi di socialismo o altrismi peggiori, che non oso menzionare, tenebre orripilanti di questo nuovo secolo ventesimo. Che la classe non è acqua, lo testimonia da mia famiglia. Seppure le nostre, un tempo estese proprietà terriere, si siano ridotte e abbiano reso meno che nel passato, non per questo noi, scamorsi, mandraghi, eccetera, eccetera, abbiamo mai insaccherato nome o titolo confondendoci con il miraggio di un impiego. E' perciò, con grande astio e copa rassegnazione, che vado a narrare la mia storia, che poi quella di tutti gli scamorsi che, purtroppo come me, si estingueranno irrimediabilmente. E' tutto a causa di un maleficio, di un'ingiustizia perpetrata ai miei danni, da una donnetta, una volgare razziratrice, una manipolatrice sicuramente in combutta col demonio, è riuscita nell'intento di rovinare la mia persona, facendo cenere delle ataviche glorie della mia famiglia. Oh, che mi resta poco da vivere, e ho deciso di affidare questo breve memoriale al mio notaio di fiducia, con la speranza di essere utile al futuro di questo malsano paese che si avvia a diventare l'Italia. Dunque confesserò in primis che sì, conobbi questa tal donna di nome Hortensia Smandrapponi, una contadinella apparentemente di buona volontà, figlia del nostro fattore, assunta per un atto di pietà da mio padre, il conte, come domestica della nostra casa di città. Ero giovane ed esuberante allora, cosa da destare l'orgoglio della casata, considerata la missione a me affidata di propagare il titolo in quanto unico e tanto atteso figlio maschio, dopo quattro figlie femmine di cui due sfacciatamente gemelle. Come dicevo, Hortensia Smandrapponi, diciottenne, era pure esuberante, ma naturalmente di quell'esuberanza volgare che non conosce le regole del buon gusto. Caddi tra le sue sgrinfie un mattino di primavera, in cui, indulgendo col tempo e coi miei appuntamenti del circolo del bridge, mi trovai la furbetta in camera a scostare i pesanti tendaggi apparentemente stupita di trovarmi ancora di cinto in camicia e berretto da notte. Io ebbi probabilmente un moto spontaneo, democratico, verso quel corpo florido e caldo, o forse fu la mia momentanea ingenuità che mi portò a concedere ad una creatura tanto inferiore a me un regale e regolare a un plesso. Purtroppo, come noto, la gente del popolo non si accontenta mai del poco e chiede il molto, e se si arriva al molto, poi chiede il troppo. Fatto sta che Hortensia Smandrapponi continuò a sbagliare orario e io la lasciai sbagliare per molti mesi, tra l'altro continuando a trascurare gli amici del circolo. Dopo alcuni mesi ella sparì. Sostituita da un'altra domestica meno florida e più matura che doveva avere una sua visione delle cose del mondo e che, istruita da mio padre circa i miei trascorsi, era persino autorizzata a ridarguirmi si alziava oltre l'ora consueta fra i tepoli del letto. Ben presto dimenticai Hortensia e portai avanti la mia vita da giovane sfaccendato prima di conte Scamorsi Mandraghi di Pieve e di Sacco nonché di Marchese Corradini di Pescasseroli Adriatica. Poi mi agì con tale costanza e passione da convincermi a trent'anni compiuti di essere uno dei migliori esemplari di Scamorsi. Ma, sic transit gloria mundi, anno dopo anno iniziarono a morire uno dopo l'altro tutti i miei figli per una rara malattia genetica mi dissero e persino la mia adorata cugina consorte Corradina Corradini, Marchesa di Pescasseroli Tirrena da parte di mamma pure lei venne meno Il mio sconcerto naturalmente fu maggiore per i figli che per l'adorata moglie perché erano tutti maschi e tutti adeguati a portare nel nuovo secolo ventesimo le prerogative del casato Circa verso i quarant'anni ancora sopraffatto dallo sconforto che ripetuti lutti mi imponevano ricevette una lettera con un sigillo in ceralacca la dicitura campeggiava a riosa sullo spazio del mittente principessa capofino palinsesti desallusti incuriosito lessi non l'avessi mai fatto ora non mi saprei vittima di una trama plebea e morirei certo più sereno inorgogliendomi che il fato in persona si fosse degnato di accanirsi sulla mia famiglia a scrivermi rivolgendosi tra l'altro alla mia persona con la seconda persona singolare era Hortensia Smandrapponi di cui conservavo un ricordo preciso fosse vendetta personale o diabolico istinto di proletaria lei mi ringraziava ringraziamento che somigliava più ad una beffa diceva dunque così era solo un innocente diciottenne all'epoca in cui campagnola senza istruzione era stata accolta in casa mia con le mansioni di domestica io non avrei mai dovuto saperlo infatti su questo sono perfettamente d'accordo ma lei aveva abbandonato la casa in stato interessante costretta a lasciare la città e la famiglia per recarsi in una regione del sud aveva compiuto il tempo della gestazione presso una cugina zitella dopodiché affidato il neonato al brefotrofio della città aveva trovato di che sfamarsi mettendo a profitto le abilità esercitate con me infine era stata assunta in pianta stabile da madame pompilia un'altra cugina da parte di mamma così diceva ma non so proprio che importanza potesse avere nel frattempo il bambino un maschietto cresciuto dalle suore di San Fortunato aveva ricevuto il battesimo col nome del convento ospite con tanti auguri di una vita adeguata anno dopo anno forte delle benevarenze acquisite col duro lavoro sulla cui qualità non ho dubbi aveva conquistato il favore niente meno che del don muschiato capofino palinsesti principe de Sallusti per farla breve don muschiato l'aveva talmente apprezzata da volerla tutta per sé poi morta la moglie in un'improvvisa scena di gelosia aveva dichiarato che non avrebbe sopportato oltre che la sua donna restasse in un simile luogo di perdizione di punto in bianco se l'era portata a casa e di lì a un mese a dispetto dei figli l'aveva sposata in chiesa corrompendo il vescovo e come se non bastasse il pazzo l'aveva persino resa felice a quanto pare la scaltra Hortensia aveva confidato tutto all'anziano ma risoluto principe convincendolo con le malie femminili a me ben note prima che a lui a ricercare il figlio e ad adottarlo affortunato era toccato dunque per legge titolo e nome del padre adottivo rinfrancata dall'avermi finalmente detto la verità e certa della gioia che mi aveva dato con questa sua che a suo parere doveva liberare il mio animo dall'anguscia e dal rimorso nella quale ero finora vissuto sapendomi finalmente soddisfatto per la felice conclusione sua e di nostro figlio la principessa Hortensia Capofino de Sallusti porgeva i suoi omaggi stracciai la lettera e decisi di dimenticare quanto avevo letto come fosse un libro di avventure surreali da cui si alza il capo per tornare alla realtà da quel momento ho vissuto in modo ancora più nobile di prima consapevole di essere io e solo io l'ultimo germoglio della nobile e sfortunata casata che mi aveva dato i Natali non mi sono risposato e ho rifugito completamente la vita mondana ad eccezione delle dovute cene di beneficenza organizzate dalle dame del circolo del ramino dei sedici convegni della borsa di Parigi e del varo di Sette Iotta il club balneare dei banchieri a Zanzibar Hortensia Smadrapponi mi torlupinò rubando l'unica parte di me destinata a dispetto della mia persona e di tutti i miei antenati dalla preistoria ad oggi a portare indecorosamente un titolo superiore persino a quello di Gustavo Alonso Aleandro Scamorsi Mandraghi, Conte di Pieve di Sacco nonché Marchese Corradini di Pescasseroli via Adriatica e Tirrena ieri ho consegnato quella che ritenevo la mia ultima lettera al notaio perché la leggesse al circolo dopo la mia dipartita da questa terra credevo di avere le ore contate ed ero assillato da una sola idea sopravvivermi oggi con disappunto devo fare i conti con una realtà diversa non sto affatto morendo stamani il medico mi ha dichiarato inspiegabilmente guarito ora sono qui nel mio letto a riflettere una nube offuscava la mia mente poi il pensiero si è fatto netto preciso ho ancora diversi anni da utilizzare e non so cosa farne certo è innegabile che un giorno morirò come tutti gli altri all'improvviso mi rendo conto che l'unico timore del morire è proprio questo come tutti gli altri chi sono questi altri? come riempiono i loro giorni? si chiedono come mai e perché stanno al mondo e io non so più se sono lo stesso uomo di ieri non so più nulla se non ciò che il medico mi ha detto sono fortunato devo aver sorriso beffardamente a questa uscita e gli avrei detto volentieri che no fortunato è mio figlio ma chissà perché sono stato zitto e all'improvviso ho avuto voglia di piangere proprio qui nel mio letto dove un giorno morirò e dove nessuna hortensia smandrapponi verrebbe più a svegliarmi grazie a tutti grazie a tutti